a noi e di noi parla oggi e ci aiuta a capire i segni dei tempi e questi ci aiutano a comprendere la parola perché non è mai fuori del tempo in un tempo passato ma nell'oggi nella storia e il libro del Siracide che abbiamo ascoltato parla di San Francesco che riparò il Tempio la casa del Signore che è in rovina e allo stesso tempo e non è forse proprio quanto siamo chiamati a fare oggi si mette in cammino perché lui per primo è fratello di tutti e non aspetta che lo diventino gli altri compie lui il primo passo verso il prossimo come Gesù è il nostro patrono ed è questa una gioia particolare in questo tempo così segnato da tanta sofferenza e preoccupazione è una gioia trovarci qui con tutte le chiese che sono in Italia e con il Presidente del nostro Paese che rappresenta tutti gli italiani e le italiane che ringrazio di cuore per la sua presenza per il suo servizio raddoppiato pieno di saggezza e di convinta passione per difendere gli ideali costitutivi del nostro Paese grazie perché ci rappresenta e ci incoraggia a sentirci parte di questo nostro bellissimo Paese Patria fratelli tutti è il contrario della pandemia del Covid San Francesco è innamorato di Gesù ascolta e mette semplicemente in pratica il Vangelo solo il Vangelo e con la sua umanità ci insegna ad amarlo a scoprire la gioia la fraternità che genera il senso personale e universale di ognuno la pace e il bene che accendono di amore tutto il creato e le creature chi è innamorato di Gesù si innamora del mondo lo vede, lo riconosce, sa vedere come i piccoli che abbiamo ascoltato nel Vangelo e i dotti lo vedono e non lo sanno capire l'amore di San Francesco è molto reale perché ama l'altro sempre, come dice lui quando fosse lontano da lui quanto se fosse accanto a lui così mite umile di cuore come il suo Gesù San Francesco in un mondo che era e che è segnato da lupi da cittadini violenti e paurosi dato non si sa chi comincia se il lupo lo diventa per le paure e per la violenza o viceversa ma certamente uno aiuta l'altro da torri, da spade da cavalieri, da briganti, da guerre, da inimicizie inquinato da troppo odio tanto da rendere impossibile parlare di pace in un mondo così San Francesco progetta e inizia a vivere un mondo fraterno disarmato dove c'è spazio per ognuno a cominciare dai più poveri e dai più fragili ecco, oggi sentiamo la consolazione di essere con lui con questo fratello maggiore con questo nostro patrono e di vedere la sua stella come è noto le stelle brillano maggiormente quando la notte è più fonda che ci accoglie come un nastro mattutino tra le nubi come abbiamo ascoltato abbiamo bisogno di luce che vuol dire speranza e il nostro patrono ci fa sentire a casa come giustamente ieri ha detto Monsignore Daelli e ci sentiamo tanto a casa tutti 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 si sentono a casa da Sisi tutti quanti anche chi è lontano anche chi non crede si sente a casa perché sente casa e ci aiuta il nostro patrono a guardare anche le difficoltà con la forza dell'amore nella tempesta abbiamo sperimentato tanto buio inatteso e prolungato sembrava non finisse mai lo descrisse Papa Francesco nella memorabile preghiera in piazza San Pietro disse da settimane sembra che sia scesa la sera fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze e città si sono impadroninte della nostra vita riempendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo passaggio e si sente nell'aria si avverte nei gesti lo dicono gli sguardi ci siamo trovati impauriti e smarriti non lo dimentichiamo non vogliamo dimenticare perché non si vince il dolore rimuovendolo o lasciandolo divorare dalla bulimia di emozioni che non diventano mai sentimento consapevolezza consapevolezza scelta umanità tutto digitale è un cuore digitale è un po' preoccupante perché non svolge soprattutto il suo quello per cui lo abbiamo invece raccogliamo il testamento affidatoci da chi non c'è più per colpa del covid alcuni dei loro nomi li abbiamo deposti accanto a San Francesco e saranno illuminati da questa lampada li abbiamo raccolti proprio sapendo quanta amarezza e sconforto ha generato non poter essere vicino a coloro che amiamo nell'ultimo tratto della vita e ricordiamo tutti coloro i cui nomi portiamo nei nostri cuori li affidiamo all'amore di Dio perché siano nella luce dell'amore che non finisce non sono più tornati a casa non abbiamo potuto accompagnarli come loro e noi avremmo desiderato per molti di loro solo le videochiamate hanno rappresentato dei veri e propri testamenti struggenti e resta l'amarezza per un discorso interrotto lo sconforto che fa apparire tutto vano ecco in quella notte terribile vissuta da chi ci ha lasciato e da chi è rimasto abbiamo visto anche tante luci tutte consapevolmente o meno che sia ma tutte riflesse di un amore più grande perché dove c'è l'amore c'è Dio e abbiamo capito che non si può lasciare nessuno solo e anche che il buio può essere sconfitto perché solo anche solo con una piccola lampada di umanità si vince il buio sono state sono state le luci che il personale sanitario i medici gli infermieri i volontari hanno acceso con piccoli grandi gesti di umanità e i grandi gesti sono quelli piccoli consolando lacrime stringendo mani dando sicurezza anche solo una carezza o uno sguardo e ricordo quanti di loro come delle forze dell'ordine dei farmacisti di tanti operatori di carità hanno perso la vita per motivo del servizio continuando ad aiutare nell'emergenza essi sono tra i giusti che ascoltano quelle tenere parole di gratitudine di Dio ero malato e sei venuto a visitarmi prendi parte alla gioia che non finisce ecco oggi siamo nella casa di San Francesco patrono del nostro paese a ricordare a ringraziare ma anche a scegliere perché non vogliamo dimenticare le lezioni della storia e da questa vogliamo cambiare scegliere voglia il cielo ha detto scritto Papa Francesco che alla fine non ci siano più gli altri ma solo un noi e che non sia stato l'ennesimo grave evento da cui non siamo stati capaci di imparare allora ci aiuta San Francesco lui che non scappa dalla sofferenza come sappiamo ma l'affronta lo ha ricordato prima il custode tanto che diventa dolce quello che era amaro che addirittura guarda negli occhi la morte la chiama sorella e così la sconfigge chiamando la sorella muore la morte a San Francesco che usò misericordia vorrei che tutti provassimo con lui lo stesso cambiamento e quello che prima ci sembrava pesante amaro appunto una privazione un sacrificio impossibile diventi invece motivo di dolce e consapevole umanità insomma di abbracciare anche noi gli altri di continuare a farlo aiutare gli altri ci fa trovare noi stessi ed è questo il gioco dolce e soave che ci unisce a chi per primo si è legato a noi Gesù un legame di amore che ci libera dal gioco quello sì pesante e insopportabile dell'individualismo se ne esce solo insieme e le difficoltà non sono affatto finite lo vediamo drammaticamente nel mondo e nel nostro paese affidiamo allora l'Italia all'intercessione del nostro patrono ci sostenga in un momento così decisivo ispiri l'amore politico e di servizio alla casa comune perché nelle necessarie diversità tutti concorrano all'interesse nazionale indispensabile per rafforzare le istituzioni senza le quali nessun piano può essere realizzato e per affrontare delle sfide così grandi il nostro patrono uomo universale aiuti l'Europa ad essere all'altezza della tradizione che l'ha creata e aiuti il mondo intero a non rassegnarsi di fronte alla guerra e lui amico di tutti ci aiuti a sconfiggere ogni logica speculativa piccola o grande anonima e disumana e la speculazione è sempre una forma di sciacallaggio che aumenta le ingiustizie e crea tanta povertà e mi sembra che non manchi fratelli tutti dobbiamo iniziare dai più fragili come gli anziani che sono una risorsa e non un peso che vanno protetti a casa dove conservano tutte le loro radici e dove ci aiutano a trovarle fratelli tutti che guardano al futuro che lo desiderano per gli altri lottando contro il precariato dei giovani dando loro fiducia e sicurezza perché possano dimostrare le loro capacità senza paternalismi insopportabili futuro che chiede rispetto dell'unica casa dell'ambiente perché possiamo continuare a cantare la bellezza del creato e curiamo anche le ferite profonde nascoste nelle pieghe della psiche quante il covid ne ha lasciate e farlo con la competenza professionale ma anche tessendo comunità fraternità che donano sicurezza e fanno sentire protetti e amati la nostra comunità è forte ha tanta storia e umanità e per essa nessuno è straniero e insieme si trova il futuro che tutti desiderano viviamo la benedizione che sempre è la vita la sua bellezza perché sia anche appassionante trasmetterla e donarla garantendo la grandezza della maternità e con San Francesco infine crediamo che il lupo terribile della guerra possa essere addomesticato e facciamo nostro l'accorato appello di Papa Francesco indirizzato certo ai due presidenti coinvolti direttamente un aggressore e un aggredito ma anche a quanti possono aiutare a trovare la via del dialogo e le garanzie di una pace giusta e come San Francesco tutti possiamo essere artigiani di pace ecco la luce della lampada che l'Italia intera accende oggi con il suo patrono e che diventi tante luci che rendano umana e fraterna questa nostra unica stanza che è il mondo beato beato l'uomo che offre un sostegno al suo prossimo ammonisce dice San Francesco che offre un sostegno al suo prossimo per la sua fragilità in quelle cose in cui vorrebbe essere sostenuto da lui se si trovasse in caso simile laudato sì fratelli tutti grazie San Francesco prega per noi per l'Italia e per il mondo intero pace e bene